Lo canoniamo? No, 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 devi seminare tutti i campi di alberi. Bene, bene. E ora seminiamo tutti i campi di alberi e dopo mi sacco con la motosega a girare attorno. Tutti i vedi per il tutto. E devi dire che è il grasso del server che va. Ma, 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 ma. Il blog, devi dire. No, facciamo una live però. Anche su. Vai, 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 vai. Veniamo di 9 gratis. E' un bugia. Perché te arriva brutti l'implicato. Io dico così. Cosa c'è che ti ha fatto? Beh, vedi i vigni al vento in tempo zero prima che te spennò. Perché Darkman è che vi ha spostato la stanza su? Beh, non lo vogliamo. Oh, comunque, di quanti il frammento qua ha l'una. Marco, ce n'è ancora con la, cos'è pistola, fucili e che cazzo era là? Eh? Eh? Che cosa? Vuoi affrontare il mio pistolino col cazzo? No, 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 no. Che bello. Ma che cazzo è in movimento? Quello grassa è schifo. Ce n'è ancora cos'è una pistola? Sì, ho pistola, un fucilio e ho pistole di fucili. Sì, ho prete. Boh, me ne presti uno dei fucili. No, non posso portarti. In modo che vede che c'è qualcosa. Dopo glielo punti sulla fronte. Ho visto che una volta l'ho fatto a un cinese che ti fa paura. Se torna in rio. E dopo ti muoi, e dopo ti muoi un Zeus. Dio dentro casa. Sì. Anche me ne mangio. Quando lui sente scoppio, da là a qualche secondo ti senti scoppio di merda. E' perché sei cazzo. Allora, ti butti là di fiamma, sei una cannonazza. Boh, scappa via. Ti vedi a torza che resta là, lui che corre via. Qui non può cavare, c'è il treno che mi rompe le palle. Sì, prima puoi. Guarda che è bravo. Ehm, Marco dove va? Chi? Io vanti che arriva che altro... Chi sei che sei cazzo? Chi sei il semo che sei cazzo con i morti? Dove? Sì. No, se sbaglio, mi dico io, mi sono fermato un attimo. Ho sbagliato. Ciao, dove sei che vado a scaricare le bottiglie? Ma rimani, non c'era sotto tre, perché cazzo che fai qua? Ancora, sono andato a scaricare il salame. Canto, ragazzi, c'è la vera che le ha fettine bruciate. Sì, lo sappiamo. Canto, sì eh. No, ma che ci sei andato a scaricarti che ho ancora 3.000 litri? Come 3.000 litri? Ma sei giusto? Ah, mi vedo 3.000 litri. Comunque se... Ehm... Oh, bevemo un bire. È una domanda più grande della mince. Ok, riesparso il quadratore. Ma i poli starnutiscono? Sì, beh. La mia gallina sia starnutiscono quando aveva il frattore. Addirittura. Certo. Vieni chi? Avrei scoperto Ameriki. Cioè, si è scoperto da solo. Guarda che tutti gli esseri animali starnutiscono. E anche scorreggiano. Lo so qualcosa io... Beh, a parte meduse, perché se stanno contiressi una medusa, mi penso che fanno ancora lato. Vedi, vedi, è bolle. Vabbè, noi tu pensi, noi siamo mammiferi. Ma che cosa cagano le mie dimmi? Ah, Maria Verdi. Oh, eh. Oh, eh. Guarda che vuole un rimorchio grosso, perché qua c'è assoluto bisogno di... Da bolle arrivo. Ma c'è che... Ma c'è che... C'è che vedo già più un culo, vedi, buono. C'è che caga in acqua. C'è che caga. C'è che caga. Oh, guarda che c'è arrivato con i rimorchi. Prima è poco. Ma che so qua, mi... Quando lotto. Sì, ma... E tu sì, dove c'è il rimorchio? Avete aperto la strada. No, ma che c'è amaro, perché diceva di vedere 3.000 litri invece non io era vero, perché... Dio. Ma dai, no, ancora, ma... Che caga la pagata. Buco, esistente su tutta la faccia della mappa, non... Eh, la pagina. No, il culo. Ma che buco, c'è un... Mi capo di livello, salame. Sì, no, ma... Ma... Possiamo osservare una classe mentre stupra un... Mazzetto. Mmm... Dove pare molto sega così di sforzare mentre taglia? Mmm... Praticamente... Ma... Martano è così. Mmm... Pesca che be... Wow. Ah, pu... Wow. Poteva, poteva di vedere? Ah, pu... Poteva, poteva di vedere? Ah... L'era peggato. Poteva, poteva. Guarda, guarda. Dio. Poteva trebbia. Oh... Oh, Marco. Ti senti che sei su Marte? C***o. Si, mi pare tanto la sveglia di soldati. Sì, mi pare. Eh, Marco. Dare che modifico mi stiamo da qua? Che metto il sound che c***o è... 160 con... Pro con questo clacson, hai capito? C***o. 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 E io vi ho un audio perfetto. Non so dove state riondare. Mezzo al mais. Ando così a c***o di io a ballare col armando. C***o. Adesso doy Pifo. Scusami, posso andare a tornare ad un trattore dello shop? No! ora vò fuori perchè non cazzo devo fare e non voglio usare che il merda cesso del trattore là che spaccasino per niente farà una butta fina quella fa mettone cose ma lì chissà che il maricati fai cagandosi sono clavine bene 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 e farò un caro armato dopo a te urti una roba toccata insieme al quarto col petto un po' quei rimorchiazzi dopo magari ribaltare anche il chiro beh quello mai non sarà una cosa possibile mahi muovete il chiro è stato forgiato al meglio solo un trattore può ribaltare il chiro il chiro si sta forgiato al meglio forgiato a mano dai mastri forgiatori ripeto ripeto solo un trattore può ribaltare il chiro è la mattina è un altro chiro è un trattore con il 4 aspetta manco per carico ma sarebbe da fare una prova vedi 600 cavalli contro 8000 ma che era il tractor cooling è il tractor cooling è il 4 no adesso che ha 700 cavalli quanti? 700 cavalli con il tractor cooling no che ne ha più su eh 800 eeeh va bene 7 800 cavallini 300 800 è la stessa roba ora no ma comunque non aveva 600 il cazzare aveva 600 si metti un rimorchio con un cavallo davanti si metti un rimorchio con 900 cavalli davanti si è la stessa roba e marco si svolerà e il rimorchio si svolerà ma arriverà il gasolio che esploderà e la terra alta e una soppa e partirà e una soppa e una soppa e una soppa che foci è troppoppato di arrivederci 1 1 in una foto Certo che tu puoi dormire, però no Sì, tu puoi dormire, sì Penso che se non veni a urtare, tu sarai 5 ore Sì, beh, effettivamente Magri! Ehi, vieni a te, intanto Sì, ciao, buonanotte Ma devi buttare in fondo, ora che devi vittire Ma devi mettere l'aria Metti la L1 che ti ha fatto Forse Ma che merda! E metti la L1 E non ti sembra buono di usarlo, Marco Eh, davvero Ma che mi portavo lì a 52.000 litri con... Il maio Sì, ma non voglio un Sky-in e un Sky-in L1 Eh, Sky-in è un problema Proprio della mod, che praticamente Tutti i trattori che si incantano su Perfì a trincia Amico 980 che vedo un Sky-in Basta se io che vado un Sky-in e Sky-in sparisce che ti capisco Accelererai La L1 Vosite che è proprio a me una fusa di voi E' un po' attati sempre E' cosa che potrei fare? E' l'asfalto pararia trarrerà E' un Gebo ti fermerà E lo è già in spazio E lo è già in spazio Eeeh 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 Che genio veramente Eeeh Che rime che te caccio Eeeh 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 Sì Eeeh Poi Eeeh Voi Adesso si fa Cusinà E' te che vedete in difficoltà Ahaha Ahahah Ahahah No a ma su mia in difficoltà Voglio far finta Da chi l1 ti si apposa Te va avanti Guardiamo che sei in H Bello E' un salame Ahahah Ma diupole Ma diupole Eeeh Guardate com'è che va il maior Guarda Come ti tocca a parterra tipo un saltino seccata praticamente come mai il metallo sega dilatato boh è dilatazione termica eh mi sembra che io voglio essere tipo di dilatazione qua a me pare a me che non so anche se è merdata che ha preso anche se arriva a piso fin dentro quei bocchetoni dell'aria ecco guarda che è sporca tutto il mais adesso l'agri attacca a vento da quattro arriva una spruzzata di piso guarda che è attaccata con ci manca tutto il mais qua che è dentro il caffè boh boh è pronto sta pronto per l'anno prossimo settimana guarda questi che mi parcheggia il pallone ahahah ahahah devo andare a grumare come se fosse cartavina ahahah madonna metto un chiro che si chi finisce di fargli per puttino poh che ci si chiama con il piceo ah c'è il pubo madonna ho visto ho visto la maggiori qua che c'è la piantella alza dai guarda guarda che roba come se acqua ahahah guarda adesso è sobrata in terra ahahah se lo devo pensare che è a capire ahahah si ciao a casa che va avanti ahahah ahahah aspetta questa bong eh davvero hai sentito sgomare ah questa tira però dai bong io ho 45.000 per gioco se lo fai in realtà si è pianto sui tu guarda 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 senti senti dai 3 2 1 eh sono passato alle rotaie e mi dicevo che io cava su ahahah 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 ti cava le ruote sulle ruote del treno no praticamente eh ahahah e mentre ti sono passato ti vieni sulle rotaie e parte del rio non so questo ah ti tira via le traversine ah ah domani domani altri 100.000 pezzi a fare calata ma io era traversine legno o cemento perchè in base a cosa no no io era di di titanio come di titanio io voglio usare legno o usare cemento no no ha fatto di titanio cazzo se eh 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 la ferrovia dei poperoni dei poperoni io adesso arrivai in fondo al stopo scala da H4 a H1 e mi dico che quei pistoni che vieni a battere sui cofano ah ti hai venito a cattare un pistone in cabina per salutarti come hai venito e dite guardami qua guardami che stavo ah praticamente se adesso non ha biega un modo elastico di corda di jumping beh il motore ha bisogno di rinfrescarsi proprio i pistoni che si muove Marco eh intanto sono arrivato sta fermo guarda sta fermo guarda sta fermo guarda adesso chi te lo io metto attoro perchè fatta che l'urto fa dai tu le mostro stai io visto insomma la posta mi sembra di barattolini san montana eiii barattolini e da poi si squaglia tanto il barattolini san montana la portavi a 45.000 litri e mai si da poi si squaglia adesso che temo tu squaglia intera eh vabbè ma intanto ve lo demo dopo a biuro a energy e quante ore che aveva adesso deve fare che teoria non vendemo trattori eh no questo qua c'è un resto che altri vendemo i resta tutti per il momento sennò non chiamo un mano d'opera cioè non chiamo mesi da ma se mi tipo quando il te viattore le ma se mi se mi quando il te viattore le stai la che lavori dopo la tina dopo non sta a fare la puntata ignorante che dopo la gente deve sapere le robe prima de ma tu la che ti tendeci bene lavorare in fabbrica ti 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 ma da ti fabbrica da ti si si perchè? da fare un cazzo? no 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 testerisci sotto il mio comando eh io voi in 2-2-4 in 2-2-4 in 2-2-4 diventa il mio capo e ti 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 stai su tu questo che roba non mi è nante in 1-2-4 tranquillo ti che ti che ti 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 che scarico il caro ponte caro ponte si da poter da poter parte via anche a rimorchio da poter tutto insieme rimorchio attiro su un'altra rimorchio il camion motrice e tutti i cadi fra qua entro per magazzino guarda che abbiamo un goto di acqua come faccio di uccicciare non so cosa devo giocciare il fondo a giocciare il fondo di un pozzo senza fondo il fondo di un pozzo senza fondo maia questo dà fastidio fuo cammino e così si io po' che da quei droghi per cui no e ti capi a merda guarda via guardarla elena ma spera la non avevo idea di che beh vedi come qui risponde pecorelli sempre di fare i manegati vedi che ho ragione vanno per dare rispondo subito vito c'è meme di quando bisogna parlare vito casi quattro frocci ahahah io vado guarda che lago da merda guarda che lago da merda guarda che lago da merda che 65 passi da pigno ooo che cazzo che è qua vado eeeh va fuori con quel carabine che ho detto se sei a luna che rompi i coglioni è troppo basso beh tipo prova a vendermi perchè dopo che energia non vuoi le mani dopo no ti ti vende però ti ti dici che ti vende se ben che io non vuoi c'è bisogna che fimo le robe si proprio quando tornai bisogna che ti dica che praticamente le andà ferie praticamente vendendote la roba più presto che così da ma cosa paga le ferie bisogna che fighiamo da cattar fuori il discorso anche due coglioni d***** se penso che una boia me ne ho recuperato d***** adesso mi ho rotto proprio rotti coglioni vaffanculo anche a nitrado su se ciappa dove stiamo stasera per me mi tocca un godo no no che scrivo in italiano non mi capisci i stessi olori che faccio p****** e non stai a dire che sei in modo che sai varia perchè fare i games non ha nessun problema guarda che razza però adesso adesso mi incazza adesso ti vedi un missile terra aria terra aria ti vedi una scorreggia vogliante che ti fa crociare la server te vuoi che perdiamo un salvataggio per tagliar tutti piantare alberi e tagliarli dopo qualche caprice e facciamo a live questa roba qua a live si alberi a manetta perchè orco dio lì è sabato e domenica che sono un po' ahhh non so che in due lì è sabato e domenica che sono un po' lì è sabato e domenica che si ma dove è andata? dove è andata sabato e domenica? io voglio forse sabato e domenica se si può registrare più ehm par di produzione e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga